Diciamo l'emozione sicuramente è stato un pensiero a casa, insomma come sempre, al perché e a come sono arrivato qua e quindi il pensiero va alla mia famiglia, ai miei amici e a chiunque mi sta vicino. Abbiamo costruito questa vittoria meglio rispetto a settimana scorsa, siamo stati molto più pazienti nel primo tempo, abbiamo fatto le cose che avevamo lavorato e nel secondo siamo riusciti a dilagare, insomma siamo più soddisfatti e più felici di questa vittoria.